Zanolli, da oltre 20 anni, leader in Europa. Linea forni a tunnel, ventilati, gas ed elettrici. Linea forni a tunnel, ventilati, gas ed elettrici. Linea forni a tunnel, ventilati, gas ed elettrici. La�cina per il optimum è di 10-20 gradi centigradi inferiore rispetto a quella di un normale forno statico. Attenzione all'altezza dei prodotti. Deve essere necessariamente inferiore a 8 centimetri. Ecco alcuni esempi. Al mattino possono essere cotti prodotti da forno di panificazione e pasticceria Grazie a tutti 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 Grazie a tutti